Arezzo preistorica. Chi ha posto la prima pietra della città della Chimera di Petrarca Vasari della giostra del Saracino? Un giovane e determinato condottiero etrusco di nome Arrenzio. Il nome invece glielo ha dato la ninfa Arezia, che viveva sino allora in beata solitudine nel fiumiciattolo Arnezia, piccolo Arno, poi ribattezzato dai Romani col nome di Castro, che solca la sella del colle Lunato accogliente alla più antica città. Abbiamo testimonianze precise sulla presenza già in età paleolitica di esseri umani che sono vissuti sul territorio. Ciò risulta principalmente dal rinvenimento casuale in zona Olmo di una calotta cranica sepolta insieme ad altri animali che all'epoca popolavano il territorio come un Elephants Meridionalis. Il primo aretino venne alla luce nel 1863. Durante i lavori di scavo per la galleria ferroviaria venne trovato un teschio umano, accanto c'è anche una pietra puntita di selce. Il cranio dell'Olmo appartiene ad un uomo come noi, un uomo sapiens sapiens, vissuto circa 50.000 anni fa, sembra l'apparenza. È il più antico italiano ritrovato. Abbondanti sono i ritrovamenti di manufatti, consistenti in scheggio di pietra, che servivano per raschiare le pelli degli animali uccisi e come punte di lance, non differenti da quelle trovate in Dordogna e altrove. Scarsi reperti abbiamo invece dell'epoca successiva all'ultima glaciazione, eppure se si scavasse lungo il Vingone si potrebbero trovare anche altri reperti mesolitici, cioè vecchi di ben 12.000 anni, alla fine della grande glaciazione di Viurma. Col Neolitico e l'inizio dell'allevamento della transumanza, i corsi d'acqua, secondo alcuni studiosi, assunsero un valore sacrale, che perdurò fino in epoca etrusco-romana col culto delle acque e di alcune fonti sacre. Presenza villanoviana ad Arezzo? Sì, soprattutto per la posizione geografica. Ristrovamenti archeologici, di ceramiche, una fibula bronzea riportabile all'VIII secolo a.C., ma anche prima. Sappiamo che la civiltà villanoviana, così chiamata perché i primi ritrovamenti furono rinvenuti a Villanova, presso Bologna, possedeva un'avanzata abilità nelle tecniche metallurgiche. Se di villaggio Neolitico su Palafitte si è trattato ai tempi della preistoria, immaginiamolo sopra gli amenni ristagni dei torrenti Castro e Vingone, utili alla pesca come testimonia il toponimo pescaiola. I reperti preistorici trovati dal nobile Vincenzo Funghini, nella seconda metà dell'Ottocento e poi generosamente donati al Museo archeologico statale di Arezzo, poco ci dicono della loro provenienza, mentre le tracce di uomini preistorici provenienti da Poggio Secco, un'altura dei Funghini a tre chilometri e mezzo a sud-est del Palazzo Comunale Odierno, con la cima spianata in cui si è trovato l'unico esemplare intero di teatro, di tempio etrusco con un annesso teatro, fanno pensare che quando nel Medioevo fu costruito il Polo Santo, il Vaticano degli Aretini sul Colle del Pionta, attorno alla sepoltura miracolosa del Martire Donato, probabilmente era ancora a portata di vista ciò che avevano realizzato gli antenati a sud-est, invece che a sud-ovest. La società si sviluppa anche per imitazione. Dopo i pescatori e cacciatori del villaggio su Pallafitte in Pescaiola, i primi agricoltori cominciarono a coltivare la fertile piana sottostante e i primi pastori a condurre le greggi d'estate sui monti circostanti, come facevano fino a tempi non troppo lontani i casentinesi spostandosi a piedi d'estate in Maremma, per poi ritirarsi la notte, ed in caso di guerra, nelle munite alture del Colle Lunato, uomini che avevano imparato a produrre un surplus di formaggio e grano per gli anni di carestia, proteggendolo dentro le rudimentali fortificazioni di Paliaguzzi, sacerdoti che misuravano il tempo scandendolo con 13 mesi di 28 giorni, seguendo le fasi lunari e i cicli vegetativi della natura dall'alto del monte, guerrieri che si proteggevano sulle alture come gli italici ma anche metallieri che sapevano produrre il rame del ferro come testimoni del cinturone di ferro di un guerriero dell'ottavo secolo, rimanuto subito fuori la porta di Colcitrone, persone che offrivano già i deliziosi bronzetti votivi trovati nell'area urbana con le braccia al cerchio come ad abbracciare il mistero invisibile, gli stessi che a Firenze non ci sono, che interpretavano il volo degli uccelli come fasto o nefasto, tecnica degli auspici ripresa poi dai generali romani che la applicano alle imprese belliche. Il salto culturale fra i villanoviani e gli italici da una parte e gli etruschi dall'altra fa comunque pensare ad un popolo orientale più evoluto arrivato chissà da dove nel corso di una lunga migrazione marittima. Fino a Napoli c'erano già i rognosi greci, più in su i barbari liguri, la maremma gli dovette apparire disabitata, esclusi con i quattro gatti di italici montanari, selvaggi e appetibili, con fertili pianuri da bonificare, ma loro sapevano come fare. Come manca l'anello di congiunzione fra l'uomo e la scimmia, così gli archeologi ed i paleontologi non hanno saputo mostrarci niente di intermedio, fra l'ago ricavato dall'osso di un cinghiale ed il bronzetto votivo finemente lavorato. Rimanendo ai dati della storia, alle fondi scritte, quando finisce la preistoria, Arezzo appare già ben formata, stando agli storici romani che pure avevano molte buone ragioni per occultare il passato, come una delle dodici capitali dell'Etruria, già dal 500 a.C., insieme a Veio, Chiusi, Roselle, Tarquinia, Bolsena, Vetulonia, Perugia, Cortona, Fiesole, Volterra, Populonia. Documentata è la presenza di uomo neardentalensis, cioè l'uomo di Neander, tal che visse nelle nostre zone all'incirca tra i 90.000 e i 40.000 anni da oggi. Industrie in pietra scheggiata appartenute gli sono state rinvenute non solo nel Senese, in particolare sul Monte Cetona, ma nella successiva fase nota come Uluziano, anche nella poco nota grotta La Fabbrica, a indicatore di Arezzo. Le prime fasi culturali, legate invece a Homo Sapiens, sono dette Orignaziano e Gravettiano e sono testimoniate in provincia, presso la Terina e a Montelongo, vicino Arezzo. Chiaramente è impossibile adesso scavare sotto le alture cittadine o a Pescaiola per scoprire i resti dell'uomo primitivo, ma mai dire mai. Nel VI millennio a.C. appare in territorio toscano la cosiddetta cultura della ceramica cardiale, che segna l'introduzione della rivoluzione neolitica. In questa fase le comunità della Toscana interagiscono con quelle delle isole tirreniche, Arcipelago Toscano, Corsica e Sardegna, con cui intrattengono importanti scambi commerciali, in particolare di Ossidiana, una pietra così tagliente che oggi alcuni chirurghi la preferiscono al laser. Seguiranno nel neolitico medio la fase detta della ceramica lineare. Mentre in Egitto venivano innalzate le piramidi, ad Arezzo gli uomini vivevano ancora in un villaggio di piccole dimensioni e dall'organizzazione sociale assai semplice. Pastori, allevatori, agricoltori avevano comunque sul colle di San Donato un osservatorio privilegiato per guardare le stelle e una cantina rocciosa fresca e poco aerata per conservare i prodotti agricoli eccedenti messi da parte per le annate sfortunate. Chissà se, scavando scavando, dentro la fortezza si potranno vedere almeno le buche, in cui erano infissi i pali portanti di legno rivestito da argilla delle capanne e sorreggenti un modesto tetto di canne, legno e paglia, e forse anche una qualche rudimentale pavimentazione in pietra, come quelle datate X secolo e rinvenute sul Palatino, il colle più antico di Roma, la cui i latini controllavano l'isola tiberina, quasi un ponte naturale, usato anche da etruschi e campani per i commerci che scavalcavano il Tevere. Isola dove la via Salaria si metteva nell'autostrada di fiume, con grosse barche piene di sale, che arrivavano sino in Umbria, per poi ridiscendere cariche di generi alimentari. Per il controllo delle saline tirreniche, i romani oseranno per la prima volta attaccare una città etrusca come Veio, da cui erano giunti loro re appena un secolo prima, ma comunque aspettiamo, torniamo alla pre-storia. Col 2000 compaiono gli italici. Italici saranno indoeuropei o autoctoni evolutisi, o incrocio di indoeuropei e autoctoni. Gli italici danno inizio all'età del bronzo ed affossano definitivamente l'età neolitica. Col 1000 abbiamo le avanguardie etrusche e l'uso del ferro. La nostra città nasce in ritardo rispetto a quelle del lontano oriente che datano anche al 3000 a.C. Però per l'Italia, le mura ciclopiche di Arezzo sono una grossa novità che soppianta le più rudimentali palizzate italiche. Verso il 2000-1800 a.C. c'è la prima invasione di popoli più evoluti che dà vita ad un mosaico di genti chiamate nel loro complesso con il nome di italici, anche se loro si attribuivano appellativi diversi a seconda delle regioni in cui vivevano. Chi pensa ad uno scatto evolutivo interno agli autoctoni non saprebbe del tutto spiegare l'improvvisa comparsa di nuovi animali domestici, di tanti tipi di cereali distinti, dell'uso del bronzo. Ma si sta scoprendo che gli uomini del Neolitico erano anche naviganti e praticavano nel commercio anche con le isole. Forse gli italici erano indo-europei più evoluti e provenivano dal nord e da est via terra. Sono loro che inventano i primi villaggi su palafitte, ma in Toscana l'uso delle case in legno di pianura è dovuto anche alle avanguardie etrusche che gli si sovrappongono. Esploratori che solo dopo aver preso il controllo di un territorio scelgono di munirne i monti lunati e fiumati mediante mura ciclopiche, decidendo così di fermarsi a lungo. Quindi i cosiddetti villanoviani, che compaiono sicuramente dal Novecento in buona parte dell'Italia centrale e si distinguono perché praticano i commerci, usano già il ferro, conoscono tecniche agrarie avanzatissime. Ebbene, costoro in molti casi, Arezzo compresa, erano etruschi in avanza scoperta, diffusisi al centro in seguito a sbarchi dal mare, su pianure in gran parte malariche, disabitate e incolte, prima delle loro bonifiche. Dalle città costiere più antiche a controllo del territorio acquisito, iniziano a costruire anche nell'interno per rimanerci a lungo, cioè con mattoni cotti e pietre grosse squadrate. Loro poi si incrociano con gli italici e gli autoctoni neolitici dell'interno, creando una nuova stirpe non più orientale, ma mista, destinata a un lungo dominio. C'è chi parla di millennio etrusco, dal mille a Silla, che romanizza violentemente gli etruschi. Ma torniamo alla preistoria. Gli aretini più antichi sono gli uomini del Paleolitico, mancano reperti ossei importanti, l'uomo di Olmo è risultato semplicemente un italico che usava il bronzo, ma dell'uomo erectus che viveva nel Paleolitico inferiore abbiamo numerose industrie litiche, cioè di pietra, prossime soprattutto agli antichi bacini lacustri scomparsi, in seguito al formarsi del corso dell'Arno e della Chiana. Dell'uomo di Neandertal che viveva nel Paleolitico medio, 150.000-50.000 anni avanti Cristo, è stata scoperta nel 1928 una stazione all'aperto sui terrazzi fluviali dell'Arno in località Venere. Lunghi torrenti Vingone e Castro a Carcerelle e a Castelsecco, altura dei Funghini, emersi reperti del Mesolitico, 12.000-7.000 anni avanti Cristo. Anche per il Neolitico, 5.000-2.000 anni avanti Cristo, abbiamo solo i soliti reperti ottocenteschi di Vincenzo Funghini. Gli uomini del Paleolitico, ancora 10.000 anni fa vivevano di caccia pesca raccolta dai frutti del bosco. Le loro palafitti andranno cercate in zona pescaiola, un nome e un destino, dove la scarsa pendenza del suolo favoriva il ristagno pescoso dei torrenti scendenti dal colle Lunato, dove i pesci potevano riposare, essendo debolissime le correnti. In zona di città non mi risulta poi che ci siano caverne interessanti da esplorare. Tracce dei Sapiens, Sapiens del Neolitico, era che in Oriente appare prima del 12.000 avanti Cristo e da noi con più di 6.000 anni di ritardo, l'era cioè degli allevatori, agricoltori e costruttori di villaggi fortificati. Tracce di loro andranno ripetite sotto la fortezza, nel colle più alto di Arezzo, luogo ideale per sorvegliare la transumanza e custodire il surplus agricolo in asciutti silos sotterranei. Non è il massimo dell'evoluzione per genti che daranno la luce al rinascimento, però nello stesso lasso di tempo anche un popolo destinato a fare la storia non ha inventato molto di più. In questo periodo Abramo ha spostato le sue egregie in Palestina dalla Mesopotamia, intorno a 2.000 avanti Cristo, anche se è vero che solo 300 anni dopo, Mosè è già consigliere del Faraone e da Muravi scrive le leggi per la prima volta nella storia dell'uomo. Arezzo e l'Occidente diverranno avanguardia della civiltà solo dopo Cristo. L'uomo primitivo andrà dunque cercato sotto il colle di San Donato, che custodisce più di 3.000 anni di storia e di vita della civiltà retina dagli italici ai romani passando per gli etruschi. Basterebbe scavare per trovare reperti importantissimi. Ultima scoperta la domus romana pavimentata a mosaici e coperta di dipinti. Sotto ancora agli etruschi fino agli italici. Ecco un caso di servizio militare utile ai fini dello studio della storia antica. Quante Arezzo scomparse più antiche di quella ritratta da Giotto ci saranno sotto il colle più alto? Solo con gli etruschi arrivano ad Arezzo scrittura e ferro scoperto dagli Ittite mille anni prima, due popoli levantini, acuti e intelligenti, dal vocabolario non indo-europeo, conoscono l'alfabeto prima di tutti gli altri e con esso fanno meno fatica nei commerci e nell'amministrazione. Dal Novecento i nostri antenati sono sicuramente in Toscana dove diffondono conquiste culturali che nel lontano oriente fanno oramai parte della vita comune, la scrittura cuneiforme dal 3500, l'alfabeto fenicio dal 1300. Nel 1250 gli Achei espugnano Troia e gli etruschi fuggitivi potrebbero provenire da lì ma anche da Creta che viene devastato da un misterioso incendio forse addirittura nel 1500, forse 250 anni dopo quando uno tsunami la investe in seguito all'esplosione del vulcano di Santorini. Non sono il solo popolo evoluto presente allora in Italia. Dall'Ottocento gli astuti mercanti fenici da Cartagine avevano dato vita a città potenti e ricche come Cagliari e Palermo, poi arrivano i greci che risalgono l'acqua in isola fino a fondare Napoli. Nel 750 gli etruschi hanno però ben 12 capitali, fra cui Arezzo, da cui controllano anche Roma, abitata soprattutto dai latini. Così avevano fatto anche con Arezzo 150 anni prima, quando si erano mescolati ai precedenti italici, senza preconcetti razziali, senza gelosia di perdere la purezza della propria e superiore cultura, cambiando addirittura alla loro arte orientalizzante in quella nuova, più realistica, sincretica ed eclettica della terra del tramonto, Occidente. Mentre intorno al 600 a.C. gli evrei abbandonano il Tempio di Gerusalemme per incamminarsi mesti verso la schiavitù di Babilonia, gli etruschi aretini sono padroni in casa propria, munita di mura ciclopiche e non disprezzano nemmeno di allargarsi d'intorno, scendendo lungo il Tevere, inviando a ruspici attori, politici ed ingegneri anche a Roma. Sono finiti i tempi degli sconfinamenti di Liguri ed Umbri, che comunque lasciano traccia del loro passaggio nel linguaggio. Cremona in Ligure significa pietra e la chiesa di San Donato dentro la fortezza medicea si chiama così perché sotto il colle più alto c'è la dura pietra, stesso significato probabilmente per Arra, da cui arezzo in Umbro. Ma io credo che la spiegazione più semplice sia la migliore. Così il nome etrusco Arnt, da un più antico Arant, Arunt, latinizzato in Arnus, potrebbe anche essere stato il cognome del fondatore etrusco, da cui deriverebbe la gens latina Arria dopo la romanizzazione. Sappiamo poi che il figlio di Arnt si chiamava Antsa, cioè piccolo Arnt, latinizzato in Arnezio. Così si chiama anche il figlio di Velsaties, con cui si fa ritrarre vestito di porpora e cinto di alloro nella tomba delle onde marine di Cere. Quindi, quindi... Machiavelli, nelle sue storie fiorentine, testimonia il primo municipio etrusco romano di cui si è persa traccia e su cui più tardi Giulio Cesare impianterà Florenzia, si chiamava Villa Arnina, perché dunque l'Arezzo più antica, quella ancora a prevalenza etrusca, non avrebbe potuto essere stata latinizzata dai futuri dominatori in Arnezia, partendo dal nome etrusco romano di Villa Arnetina, Villa Arretina. Comunque, comunque, purtroppo dobbiamo dire che siamo ancora nel più assoluto mistero per ciò che riguarda l'origine del nome Arezzo e tutto quello che viene prima. Arezzo, Arretion in greco, Arretium in latino, forse vanta addirittura un'origine umbra fondata dall'antica popolazione pre-romana che fu poi sopraffatta dagli Etruschi. Gli Etruschi sconfissero gli Umbri e ne conquistarono 300 città, come ricorda Plinio il Vecchio, lo scrittore latino morto mentre osservava l'eruzione del Vesuvio che sommerse Pompei. Lucomonia famosa, stazione sulla via Cassia al tempo dei latini, il nome della città impegnato agli studiosi, la base arra di significato incerto appartenerebbe ad una fase linguistica pre-etrusca anteriore all'VIII-X secolo, e quindi secondo me però Arezzo deriva da piccolo anno etrusco. Resta il fatto che i preistorici e gli italici lasciano ad Arezzo il mistero tuttora insoluto delle origini. Grazie. 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 Grazie.